Concludiamo il 2020 con un vi parlo di me per i miei obiettivi per il 2021 Che poi questo video voi lo vedrete nel 2021 perché sennò porta sfiga E incredibilmente c'è una giornata di sole perché ogni volta che registro mi parlo di me ci sono le nuvole Quindi bene, fu così che vennero le nuvole in diretta Molto bene ragazzi, partiamo col video, vamo! Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Mono Sparzo Argetto E siamo qui con i miei obiettivi per il 2021 Allora ragazzi, mi sembra l'ottavo vi parlo di me che vi porto sul canale Vi parlo di me che è uscita a maggio questa serie e ve ne ho portati 8 in 6-7 mesi Quindi insomma ragazzi, non è male perché prima parlavo solo di Calcio e Formula 1 Facevo solo una FAQ ogni tanto, ma chi è che fischia? Vabbè, dicevo facevo solo una FAQ ogni tanto Spero che questa serie vi piaccia Io però questa cosa qua che metto i miei obiettivi per il 2021 l'ho fatta anche l'anno scorso Anche due anni fa e anche tre anni fa E come la tradizione, prima di partire dicendomi i miei obiettivi per il 2021 Cosa che vedo fanno molti youtuber in giro, quindi ci sta che la faccio anch'io Volevo prima comunicarvi come sono andati i miei obiettivi per il 2020 Perché certo è stato un anno caratterizzato da una pandemia mondiale Quindi non nazionale, mondiale ragazzi Cioè ha visto veramente diminuire la popolazione in generale Cioè non il tasso di urbanizzazione, ma la popolazione in generale Di, non so quanto, comunque di una percentuale abbastanza alta Perché sono morti in tanti Però non è stato neanche un anno troppo male per me Perché innanzitutto nel 2020 non ho fatto il diciottesimo Ma ho fatto il mio acquisto più neroso E c'era la mia destra, che è il computer Ma un computer ma proprio Cioè questo ragazzi mi è costato una fortuna Parlo di oltre mille Oltre mille euro In più è stato un anno dove ho trovato Sembra che abbia trovato finalmente il vero amore E in più è stato anche l'anno che mi ha visto in qualche modo Non dico esplodere su YouTube Perché per me esplodere è quando fai almeno mille iscritti Però mi ha fatto aumentare gli iscritti come prima Ho aumentato fino ad ora Inoltre tutti i miei obiettivi per il 2020 Sono stati portati a termine ragazzi O perlomeno quasi tutti Quindi insomma ragazzi Ora partiamo sempre col video Ma non è stato almeno per me un anno proprio bruttissimo Eccetto la pandemia È stato un anno buono E adesso scopriamo il perché Ragazzi innanzitutto Mettiamo gli occhiali Quelli normali Perché ogni video che vi parlo di me Metto un po' gli occhiali da sole Un po' quelli normali È una mia tradizione ragazzi Scalavanzia Così come Scalavanzia usare la felpa Ferrari Ragazzi io non ho che ho solo questa felpa Semplicemente quando faccio un Vi parlo di me magari O i miei obiettivi per il 2021 Se usassi un'altra felpa non sarei fortunato Questa felpa mi porta fortuna Quindi almeno per Scalavanzia Almeno nei video dove faccio i miei obiettivi Per Oppure secondo me la Juve quest'anno farà I video dove mi Giornate mi porta fortuna Metto spesso questa felpa Infatti dovrò comprare anche la maglia della Ferrari Perché Soprattutto quest'anno che la Ferrari sta andando male Soprattutto quando la Ferrari sta andando male Io uso sta felpa Se invece la Ferrari inizia ad andare più bene In Formula 1 La userò di meno Boh Probabilmente è così Tralasciando le Scalavanzia ragazzi Suonano? Vabbè Tralasciando le Scalavanzia ragazzi Il 2020 non è stato un anno male Perché io Mi invento per il 2020 C'era Ma questi cretini Che suonano a ogni isolato Non vi prende di ponta nessuno Mannaccia E continua a suonare Cioè Mi sta a tre isolati avanti Continua a suonare Oh mamma mia Va bene ragazzi E dicevo Il 2020 non è stato un anno male Perché Il primo obiettivo Erano i 500 iscritti Ne ho 501 alla fine dell'anno Incredibile L'altro obiettivo Era le 50.000 Aspetta 501 Calma Sto registrando questo video Che è il 30 dicembre Quindi quando voi lo vedrete Che sarà Credo l'1 gennaio O il 2 gennaio Quando voi vedrete il video Non so se poi Se saranno disiscritti In 10 o 15 Però per il momento Sono 501 Quindi l'obiettivo è raggiunto L'altro obiettivo Era le 50.000 views totali E sono arrivato a 52.000 Quindi l'altro obiettivo è raggiunto L'altro obiettivo Era la comitiva ben unita E mai avevo trovato Dei boys Cioè i ragazzi della comitiva Sono fantastici Le femmine più o meno Sono rimaste Le ragazze Sono rimaste più o meno Uguali Come era la situazione Però insomma È andato bene La scuola era uscire Con l'8 di media Possiamo dichiararlo Alla fine obiettivo fallito E non lo dico Perché sono uscito Con il 7 e mezzo Di media 7 e 62 Una cosa del genere Non ho raggiunto L'8 di media Però comunque Non mi sono neanche Allontanato troppo dall'obiettivo Neanche con il 7 Sono uscito più vicino All'8 che al 7 Quindi insomma Diciamo che siamo lì Non so se dichiararlo come un obiettivo fallito Ragazzi L'altro obiettivo Era di divertirmi Molto in estate Certo A causa Covid Non ho potuto Non ho potuto fare Chissà cosa Però chi ha seguito Il Vi Parlo di Me Sull'estate 2020 Sa che comunque Nell'estate Mi sono divertito parecchio Mai Ho passato un'estate Così bella ragazzi Ci sono stati I miei primi due diciottesimi Sono spesso andato In espursioni Come a Martina Franca A Castellaneta Quindi insomma Ho girato un po' la Puglia Diciamo così Sono andato sempre a mare Con gli amici col Pullman Una cosa che negli anni precedenti Lo facevo poco spesso Invece una volta Due volte a settimana Sono sempre andato a mare con il Pullman Mi sono divertito come non mai Ogni volta che ci andavo Non vi voglio raccontare Cosa ho fatto Perché tanto L'ho già raccontato In quel video Poi volevo fare un video Che in qualche modo Mi facesse il boom Qualche mia creazione Che magari nessuno L'ho portato su Youtube Italia Ed è uscito a LifeGall Certo Altre trame del genere Sono uscite su Youtube Italia Però magari Come LifeGall Farlo con dei ragazzini È qualcosa di incredibile Per me 2000 Visual Non so niente Però insomma In qualche modo Qualche video boom Quella creazione Che nessuno mi ha portato Io ne vado comunque Abbastanza fiero Di averla creata Peccato che non posso Portarvi il terzo episodio Ragazzi Perché comunque LifeGall È una cosa che Col Covid È impossibile registrarla L'altro obiettivo Era di aumentare Comunque la massa muscolare In parte ce l'ho fatta Certo Non si nota il cambiamento Nel senso che Rispetto a un anno fa Non è che sia chissà Quanto più muscoloso Di prima Però insomma Soprattutto Io l'ho notato Il cambiamento Andando alla Power Gym L'ho notato abbastanza Non sono uno di quelli Che si è scattato Di palestra Però rispetto a un anno fa La differenza Io Perlomeno La sto sentendo E nulla ragazzi Questi erano i miei obiettivi Per il 2020 Quelli che ho dichiarato Nel video Quelli che non ho dichiarato Nel video Comunque li ho raggiunti E quindi insomma ragazzi Il 2020 Non è stato un anno Così di merda Per me Eccetto la pandemia Che mi impedisce Di vedere gli amici Eccetera eccetera Però non è stato proprio Un anno talmente brutto Diciamo così E adesso Tralasciando gli obiettivi Che ho raggiunto Per il 2020 Partiamo col parlare Degli obiettivi Per il 2021 Il primo obiettivo E ragazzi Ovviamente Uscire con l'8 di media Nuovamente Quest'anno però Lo devo raggiungere per forza Se l'anno scorso E' arrivata al 7 e mezzo Quest'anno all'8 Ci devo raggiungere per forza Se volete sapere Dopo il primo trimestre Che quest'anno Tra l'altro I voti del trimestre Fanno media anche col pentamestre La media è il 6 ragazzi Perché ho tutti i 6 2,7 E 2,8 Quindi insomma ragazzi E' un 5 Che comunque si può Assolutamente recuperare In diritto Ed ed educazione civica Quindi insomma ragazzi Rispetto all'anno scorso Il trimestre è andato meglio Spero andrà meglio Pure il pentamestre Perché quest'anno Non so voi Però a me Fanno i voti di media Trimestre e pentamestre Quindi insomma ragazzi Non sto andando troppo male Considerato che ho troppe materie Tante Forse appunto Troppe materie Come media Avevo 6,60 6,70 E me l'hanno messo come 6 Non dico che ci sono rimasto male Perché al trimestre ci sta Però con il fatto che fanno media Con il pentamestre E' una cosa che mi rasserena E mi crea Mi crea più Come si dice Più fiducia Nell'obiettivo Ecco Perché purtroppo Tutti i professori Tu puoi fare anche Il lavoro migliore del mondo Il trimestre Più di 8 O di 7 Non ti mettono Almeno a me Ma così come a me Tutte le scuole Se poi nel pentamestre Il fine lavoro Mediocre Però comunque che ci sta Ti mettono il 6 Mentre nel trimestre Ti mettono il 4 Ma questo ovviamente Dico una banalità ragazzi Quindi insomma Non mi vado a soffermare molto Uscire con l'8 rimedio ragazzi E' un anno molto molto importante Per me Considero il 2021 Per me è come un anno zero E' l'anno più importante Che abbiamo avuto in vita mia Perché Finisco il quarto superiore Devo cercare di esplodere Quest'anno su YouTube Perché poi non avrò più tempo Per YouTube Quindi O esplodo quest'anno Per portarlo avanti Domani Oppure se non esplodo quest'anno Non se ne va più niente Per esplodo Intendo Iniziare a guadagnare E di questo Ne parleremo dopo Però insomma ragazzi Per me il 2021 È l'anno zero Per tante cose E Ci sono anche i crediti Per la scuola Quindi assolutamente Devo uscire Con l'8 rimedio E questo è il primo obiettivo Il secondo obiettivo ragazzi Come potevo non citare Non vorrei essere troppo romantico ragazzi Perché se vado a dire Veramente quello che penso Mi chiudete il video Perché ormai Pochi ce ne saranno di romantici Magari lo vedrete Solo Mi sentireste solo per curiosità Per il resto Però vi farei venire il vomito Se veramente dovessi dire Quello che penso Fortunatamente Io ho la fortuna di avere Del 50% degli amici che ho Più o meno la pensano come me Nel senso che ormai Io sono un tipo Come posso dire Magari che è cresciuto In maniera romantica Come si dice Sono cresciuto Con romanticismo Con i miei genitori Che magari Mi hanno sentito così Magari per la serie tv Che ho visto Da piccolino Sono cresciuto Con questo carattere E devo dire che Sono sincero Molte ragazze Anzi Il 70% di loro Mi dicono Di me Di te Mi hanno parlato In maniera diversa Cioè io non credevo Che tu fossi così E apprezzano questa cosa Per i ragazzi La cosa è un pochettino Diversa Però per i ragazzi Che la pensano come me Riesco a stringerci In una maniera incredibile Perché magari Quando tu La pensi In un determinato modo E tutti la pensano Diversa da te Quando Trovi quello che la penso Qual a te E dice Cazzo C'è qualcuno che la pensa come me Quindi Legati in una maniera incredibile Perché se io dico Messi è più forte di Boh Che ne so Di Pucciarelli Tutti Mi danno ragione Se trovo però Se io invece vado a dire Pucciarelli è più forte di Messi E trovo quello che la Pensa come me E allora Quello che la pensa come me Mi idolatra Com'è che si dice Mi rende come un suo idolo Quindi insomma ragazzi E Mi sto anche divulgando troppo In realtà Però insomma Su Chiara Non ho Tanti Cioè non ho Un obiettivo fisso Perché Ve lo giuro ragazzi Non dico Una bugia Non ci sono insieme ancora Cioè non siamo ancora Fidanzati Ci stiamo frequentando ancora Perché purtroppo Con il covid Di mezzo Bisogna anche rallentare Perché come se non bastasse Il covid E le restrizioni Che ha messo Conte C'è anche la distanza Di mezzo Quindi la distanza Massa Fra Palaggiano Il mio obiettivo È semplicemente Di far bene In questo mondo Sembra strano Dirlo ragazzi Cerco di non dirlo In termini miei Perché se lo dicessi In termini miei Innanzitutto Un po' Mi metterebbe A disagio Ma da un'altra parte Magari Non so come Starebbero a voi Quei termini Quindi insomma Per me Provo a spiegarvelo È un mondo nuovo Perché Io dopo quello Che era successo Un anno fa Che ero svenuto Avevo promesso a me stesso Ho detto Manu adesso Concentrati sulla scuola Con la scuola Trovi il lavoro Concentrati magari Sul lavoro Anche Che sarà scolastico O cose del genere Concentrati sulle cose importanti Perché per una ragazza In questa età È inutile trovarla Quando farei grande Magari Nel lavoro Te lo troverai È chiara Per me Ha stravolto Tutto questo Innanzitutto Era di Palaggiano Io non avevo mai creduto In vita mia Nelle relazioni in distanza Certo Ma siamo a Palaggiano Sono 5 minuti di macchina 10 diciamo E quindi Non è neanche Però ragazzi Non l'avevo mai vista Come una buona cosa Una relazione a distanza E tantomeno Una relazione in generale Dopo quello che mi era successo Un anno fa E invece Diciamo che è arrivata lei E ti ha stravolto tutto Non è quella ragazza Che tu trovi e dici Ma che faccio Mi metto Non mi metto Non so se va bene Non va bene La frequento Non la frequento No Dopo solo due settimane Che sono stato Con lei come amico Avevo capito Che c'era veramente Qualcosa di diverso Sia da parte sua Che da parte mia E l'intesa Che c'è tra noi due L'intesa generale Non come coppia Anche per quello Però l'intesa Che c'è tra noi due In generale È qualcosa Per me Di incredibile Cioè Io auguro a tutti Di avere Un rapporto simile al nostro Perché è uguale Per me è impossibile Però auguro a tutti Nel 2021 Di avere un rapporto Simile al nostro Quindi Il mio obiettivo In questo senso È far bene In questo nuovo mondo Perché Nell'arco del 2021 È ovvio che succederanno Tante cose E il mio obiettivo In quanto per me In una relazione O in un ragazzo E una ragazza Che si frequentano Deve essere magari Sempre il ragazzo A fare primi passi Deve essere il ragazzo A fare più sacrifici Certo Ci devono essere Entrambi i sacrifici Però deve essere il ragazzo Per me A farmi di più E quindi Il mio obiettivo Diciamo È far bene In questo mondo Dove non c'era mai entrato Perché io Non avevo mai avuto Una Come si dice Quando ti senti Con una ragazza Ma è una cosa seria Cioè non è che magari Ti senti con una ragazza E dici Vabbè se un ragazzino Ci sta Che frequento qualcuna No Con lei è un qualcosa Di diverso E spero Che almeno il 50% Di voi Mi abbia capito Non pretendo Che voi Mi capiate al 100% Però spero Che almeno il 50% Di voi In questo momento Mi sta capendo ragazzi Quindi il mio obiettivo Non è nel 2021 Mi metto con lei Nel 2021 Gli compro questo Nel 2021 Con lei Devo fare questo No Il mio obiettivo È semplicemente Far bene In questa cosa Che per me È nuova ragazzi E per me Una nuova sfida Una nuova Un qualcosa di nuovo Mi stimola E nella vita Gli stimoli Ci devono sempre essere Per me ragazzi Quindi il mio obiettivo È far bene In questo nuovo mondo Che per me Prima era sconosciuto Già che sono in tema Con questo obiettivo Mi metto gli occhiali Da solo Un altro obiettivo È mantenere La comitiva benuminita Perché Il mio obiettivo Per il 2020 Era avere una comitiva Benuminita E non ho trovato Una comitiva benuminita Ho trovato una comitiva Che per me È perfetta Ha solo un difetto Ma preferisco Non dirlo in un video Però ragazzi Soprattutto l'intesa Con i ragazzi Che c'è È qualcosa di incredibile Me Il buon Antonio Giovanni Michael E Simone Insieme Siamo qualcosa di straordinario Purtroppo è da due mesi Che non siamo tutti e cinque insieme Perché per il fatto del covid Ci vediamo sempre Massimo in tre la volta E anche con la mascherina Con la distanza Eccetera Però insomma Ragazzi È qualcosa di straordinario Per me E voglio mantenere Questo gruppo Quindi insomma L'obiettivo è mantenere La comitiva benunita E Oltre questo Il divertimento Per me Non c'è comitiva Senza divertimento Tu Sprodotto uno Che è arrivato alla metà A 17 anni Dove tra poco Tra due anni Starò cercando un lavoro Magari O magari Nel migliore dei casi Starò già lavorando Andando all'università A fare qualcosa Dove lì avrò pochissimo tempo Per divertirmi Il 2021 Deve essere l'anno proprio Del divertimento assoluto Per me Contemporaneamente Devo anche andare bene a scuola Studiare Lavorare Cose del genere Però Deve essere anche l'anno Dove mi devo divertire assolutamente Quindi Se avevo dichiarato Che il 2020 È stata la migliore estate Che ho avuto Seppur viziata A giugno dal covid Perché a giugno C'era ancora più o meno il covid Poi a luglio Siamo arrivati a zero contagiati in Puglia Quindi Ho avuto più tempo Per Che è questa voce Manu Ho avuto più tempo Per organizzarmi E fare qualche Qualche espulsione con gli amici Quindi la piscina Il mare L'espulsione a Martina Franca Che ho fatto con il buon Antonio Quindi insomma ragazzi Ho fatto più tutto e di più Però ragazzi Non c'è comitiva senza divertimento Quindi gli obiettivi Sono gli stessi del 2020 Mantenere una comitiva ben unita E inoltre Divertirmi ancora più Di quanto ho fatto nel 2020 Perché ragazzi Io sono già pronti C'ho il foglietto qui sotto alla scrivania Dei progetti che ho per quest'estate con loro E quindi insomma Perché sparano i fuochi d'artificio Quindi insomma ragazzi Spero veramente di andare bene Di fare bene con loro Di stare bene Di divertirmi Non come ho fatto nel 2020 Ma ancora meglio Perché come sono stato nel 2020 È stato incredibile Ogni giorno Era un divertimento Poi è riarrivato il covid E non ci posso fare nulla Però non mi pento Di aver fatto Quello che ho fatto nel 2020 Perché ho fatto Certo anche qualche cazzata Ma mi sono divertito Veramente Una Una bomba È stata un'estate Veramente bellissima per me Tranne per il fatto Che ho rotto lo schermo del telefono Però è stata un'estate Veramente fantastica per me E Mi auguro Di ripetermi E far meglio Anche Nel 2021 Ovviamente Quando si crea un qualcosa Una volta che hai creato Una cosa determinata X Ragazzi Devi anche portarla avanti E migliorarla Per questo Se nel 2020 Sono migliorato Non eccessivamente Ma sono migliorato Rispetto alla massa muscolare Nel 2021 Voglio fare ancora meglio Quindi continuare a migliorare Un miglioramento costante Tenermi in forma Io non sono uno di quelli Che dico Voglio andare in giro Con dei pettorali da paura Con Delle braccia La paura L'unica cosa che mantengo E gli addominali Perché ragazzi Si vedono Molto Anche Merito Del perché sono magro Però ragazzi Sono altri che sono più magri di me Non si vedono Quindi Facciamoci le domande Una cosa che mi dà fastidio Infatti E' quella Dire tu hai gli addominali Solo perché sei magro Quindi l'esercizio Psico che faccio E' inutile Fatemi capire E vabbè Magari Uno che ha tanta ciccia E che dice così Può darsi anche che Lì si ventra Leggermente L'invidia Ragazzi Però Non voglio parlare Di questo Tanto ragazzi Esclodendo I miei tipi per 2021 Faccio life goal E sono mangoloide Perché raduno Dei ragazzi Per registrare Delle scene Faccio delle foto Dove prendo 200 like Eh ma Mi credo Un modello Quindi Sono un montato Prendo la felpa Della fila Uh guarda Monosport Si è presa La felpa Della fila Si sta montando La testa Quindi ragazzi Qualsiasi cosa Farete Ci sarà sempre Chi vi criticherà Chi vi criticherà Ci sarà anche sempre Chi sarà dalla vostra parte Almeno spero per voi Però ci sarà sempre Qualsiasi cosa facciate Chi vi critica Sempre 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 Perché è impossibile Nel mondo Trovare tutte le persone Che hanno la stessa opinione Tutte le persone Hanno un'opinione diversa E quindi c'è chi A chi suscita l'invidia A chi non è d'accordo con te Perché magari Posso comprare Una felpa della fila Ragazzi No perché Tra l'altro Non l'ho mai usata Nel video La felpa della fila Però Prendo la felpa della fila Uno può dire Che bello Monosport Che figo Con quella felpa L'altro può dire Che bella felpa Che si è presa Monosport L'altro può dire Monosport si è montato E l'altro può semplicemente dire A me quella felpa non piace Il che ci sta Se uno dice Sei montato perché Ho preso quella felpa Ragazzi Solo perché ho preso Una felpa marcata Non vuol dire Che mi sto montando la testa Semplicemente Ne avevo poche E ne volevo prendere una di più Non è che Sono scattato di robe O cose del genere Quindi Insomma ragazzi Quindi il mio obiettivo È mantenere questa massa muscolare E portarla avanti Cioè nel senso Di migliorare costantemente Cioè quindi Nel 2020 sono migliorato Nel 2021 Devo cercare di migliorare ancora Questo è semplicemente L'obiettivo Come ultimo obiettivo Ragazzi È YouTube YouTube È un mondo Che in tre anni Dove comunque Facevo i superiore Quindi non ho portato Neanche i video di qualità Video di qualità Li ho portati solo nel 2020 E se mi permettete Nella seconda parte Ho portato video di qualità Se non ci fosse stato il covid Avrei continuato Life Goal Che comunque Mi ha sottato moltissimi visi Ho le miei due video Con più views sul canale Sono di Life Goal Ora Per 2021 Ho altri progetti Nel caso Non dovessi riuscire a Life Goal La carriera allenatore con l'Atalanta Il Formula 1 Story Io vi parlo di me Le FAQ Quindi insomma ragazzi Qualcosina ci sarà per forza Se non posso registrare Io vi parlo di me Il Life Goal Ci saranno sicuramente altre serie Che coinvolgeranno tutti Perché magari il calcio La Formula 1 Coinvolge Solo un pubblico Di sesso maschile Quindi per cercare di coinvolgere Un pubblico Anche di sesso femminile Perché questo video Sicuramente lo starà guardando Anche qualche ragazza Cercherò di portare Video come questo tipo Io vi parlo di me Video sulla scuola Certo che io facessi un video sulla dad Direi come la penso Già ho rischiato una volta Che i professori Mi portano sulle palle È ovvio che non posso Sempre fare video Perché poi se vado a difendere La scuola Mi portano sul cazzo Gli alunni Perché i video Li vedono gli alunni Alla fine Li vedono i ragazzini Non li vedono Quelli grandi Dubito che qualcuno di grandi Mi sta guardando in questo momento Quindi insomma ragazzi Questo è quello che vi voglio dire Cercherò di portare video su tutti Certo il mio canale rimane un canale di sport Però sicuramente Qualche vi parlo di me Qualche FAQ Spero anche Life Goal Spero tutti gli estate Uscirà E va bene così Detto questo ragazzi Passiamo all'obiettivo Youtube Ho 500 iscritti Di cui nel 2020 Ne ho guadagnati più di 200 E voglio continuare Il mio percorso di crescita Di fare questi video di qualità Perché più porti video di qualità Più ti seguono E' chiaro Anche quantità è importante Però se faccio tanti video Sul calcio Comunque ci sta Quindi quantità e qualità Abbinate Ma Nella giusta maniera ragazzi Ora ho 500 iscritti E 52.000 visual Il mio obiettivo È raddoppiare questi numeri Quindi Entro la fine del 2021 Voglio 1000 iscritti E Se raggiungo 1000 iscritti Penso che a 120.000 visual Totali Ci posso benissimamente arrivare Secondo me anche di più Anche se faccio 700 iscritti A 120.000 visual Ci aiuto Ci arrivo Però Youtube è un mondo anche buggato Infatti Cercherò di togliere Magari a questo video no Però Gli altri video Ho tolto i like Se vedete perché me li buggavano Cioè non era possibile Che a volte mi usciva 10 visualizzazioni 11 like E a volte invece mi uscivano 1000 visualizzazioni Un like Quindi insomma ragazzi E' un mondo extra buggato Ma veramente Che mi sono uscito Certe volte I numeri del genere Cioè tipo 3 like e 2 visualizzazioni Oppure 30 like E 20 visualizzazioni Quindi insomma ragazzi E' molto molto strano Quindi per le views Non mi pongo Un obiettivo Lineare Però 120.000 views E 1000 iscritti Quindi andando a raddoppiare I numeri che ho adesso E' un obiettivo concreto Farò video Di qualità Certo Cercherò di portare avanti Youtube La scuola La palestra Il lavoro Quindi tutto ragazzi Sono uno che non perde mai un attimo Nella mia vita Poche volte mi rilasso Mi rilasso semplicemente Per recuperare le energie Perché non c'è mai un momento Dove non faccio nulla ragazzi E questo ve lo posso garantire Chi mi conosce bene Lo sa E lo confermo E contemporaneamente Cerco di mantenere l'amicizia Con tutti Perché è facile Mantenere l'amicizia Facendogli solo favori Però devi anche scrivere Ogni tanto We ciao Come stai Cioè facendoti fare solo favori Volevo dire Quindi devi anche scrivere Intanto A qualcuno We ciao Giovanni Come stai We ciao Che ne so Mariana Come stai We ciao Luca Quindi Cose del genere E va bene ragazzi Farò anche 18 anni Di solito 18 anni Quando finisce il quinto superiore Si parla di agio Io lo dico già da messo Io il mio viaggio Lo faccio a Torino All'Allianz Stadium Ci sono già andato due volte E voglio andarci una terza volta Ragazzi Non credo Sarà possibile Nel 2021 Però nel 2022 Che sarà Che è un anno Un po' di merda Il 2022 Perché il mio numero Sfortunato Il destino ha voluto Che il 2022 Faccio gli esami E va bene Quindi ragazzi Il mio obiettivo su YouTube È raggiungere Le 1000 iscrizioni E le 120.000 Avviso al totale Per il momento Ho la metà dei numeri E dentro alla fine del 2021 Quindi 365 giorni Non mi ricordo neanche Se l'hanno bisestile Ma penso di no No L'hanno bisestile del 2020 Ce la posso tranquillamente fare Ragazzi Detto questo ragazzi Il video termina qui Spero che il video Vi sia piaciuto Questi erano i miei obiettivi Per il 2021 Se il video ti è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Caso di contraria Mi si like Comment se siete d'accordo Cioè Comenta Comment se ce la farò Magari con i tuoi obiettivi Per il 2021 Anche se non ho un vostro pubblico Che magari Mi commentate con i vostri obiettivi Anche perché Non volete farmi sapere I gazzi vostri E voi avete il vizio Cioè voi in generale Voi che mi guardate Avete il vizio Che quando vedete un video Dato che vi lascio Il link di Instagram In descrizione O quello che ne pensate Me lo scrivete su Instagram O nel caso avete il mio numero Me lo scrivete su Whatsapp E questa è una cosa Che io non capirò mai Perché Abbiamo la sezione commenti Su Youtube Commentate Mi fate aumentare di popolarità Mannaccia a voi ragazzi Lasciate ovviamente like Per altri video del genere Iscrivetevi Se ancora non l'avete fatto In descrizione appunto Il link per scrivermi su Instagram Ma i commenti Sono qui sotto Da voi Sport07 è tutto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi